L'impatto socio-economico delle malattie cardiovascolari, con particolare riferimento al mondo del lavoro, è stato il tema al centro di un incontro che si è tenuto a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal titolo Insieme al mondo del lavoro per ridurre la mortalità delle malattie cardiovascolari. Durante l'evento, promosso dalla Fondazione Italiana per il Cuore, sono stati presentati i risultati di una campagna informativa di prevenzione. Nel 2015 la Fondazione Italiana per il Cuore ha lanciato questo progetto che si chiama Lavora con il Cuore e questo rientra nell'ambito della direttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto ai membri collegati con l'OMS di ridurre del 25% entro il 2025 l'incidenza delle malattie cardiovascolari. La Fondazione Italiana per il Cuore, che è collegata con la Federazione Mondiale di Cardiologia, ha ritenuto il mondo del lavoro il target primario per far passare questo importante messaggio di prevenzione. Abbiamo avuto ospitalità e partecipazione e collaborazione da parte del Ministero del Lavoro, da cui appunto proprio per questo abbiamo creato il claim del progetto, il progetto si chiama Lavora con il Cuore. I risultati della campagna Lavora con il Cuore sono interessanti perché ci fanno notare che una parte della popolazione ha dei fattori di rischio cardiovascolare anche molto elevati. Tant'è vero che il rischio da qui a 10 anni di avere un infarto, un ictus, è un rischio oltre il 20%, quindi considerato molto elevato, è del 9% dei dipendenti di sesso maschile e l'1% dei dipendenti di genere femminile. Quindi gli uomini rischiano molto di più rispetto alle donne almeno in età lavorativa, però la cosa interessante è che come aderesione alla campagna ben il 60%, quindi oltre la media degli studi condotti nei posti di lavoro per quanto riguarda le donne ha partecipato, mentre per gli uomini al di sotto il 46%, quindi gli uomini un po' trascurano il loro stato di salute. È un peccato perché dimostra invece di avere più fattori di rischio, sono più obesi, sono più ipertesi, hanno il colesterolo più alto e hanno il colesterolo buono più basso. Una campagna informativa e di prevenzione reputo sia assolutamente indispensabile nell'attività lavorativa e credo che il lavoratore debba accompagnare il lavoratore in questa sua consapevolezza attraverso la possibilità di essere aiutato e accompagnato per far sì che il lavoro che valorizza l'essere persona non sia un elemento di disturbo rispetto alla sua attività e rispetto alla sua vita personale. Le iniziative che abbiamo posto in essere e che la fondazione ci ha aiutato a portare a compimento hanno avuto un riscontro assolutamente positivo, questo ci spinge a continuare ad andare verso quella direzione, ci spinge a far sì che la persona e il lavoratore siano valorizzati nella stessa cornice e con le stesse modalità con cui riteniamo che debba essere aiutato un cittadino di questo stato. Le patologie cardiovascolari rappresentano la principale causa di invalidità nel nostro paese, in particolare tra le patologie cardiovascolari e soprattutto la cardiopatia ischemica, la forma più frequente, cardiopatia ischemica che si esprime clinicamente nella maggior parte dei casi con un infarto acuto del miocardio. Ecco, da questo punto di vista al fine di prevenire la cardiopatia ischemica e quindi l'infarto acuto del miocardio è indispensabile correggere i fattori di rischio a partire dall'ipertensione arteriosa, dall'obesità, dall'ipercolesterolemia, in questo modo garantendo un miglioramento della qualità della vita dei pazienti, una prognosi migliore ed anche una riduzione dei costi indiretti della spesa pubblica. Le patologie cardiovascolari in Italia pesano un ammontare complessivo di circa 21 miliardi di euro all'anno, suddivisi in circa 16 miliardi di euro sui costi diretti sanitari e circa 5 miliardi di euro di costi indiretti relegati alle perdite di produttività. Accanto a questo però dobbiamo anche andare a conteggiare l'impatto che queste patologie hanno per quanto riguarda il sistema previdenziale. E in questo caso dobbiamo dire che ogni anno ci attestiamo su una spesa che è prossima a circa 2 miliardi di euro per tutte le prestazioni che fornisce l'Inps. Quindi sicuramente un'attenta prevenzione, un accesso precoce alle terapie realmente efficaci con una conseguente riduzione delle comorbidità genererebbe una riduzione dei costi diretti sanitari pari a circa 400 milioni di euro all'anno come abbiamo dimostrato in un recente studio accompagnato anche nel tempo a una forte riduzione delle prestazioni previdenziali che fornisce l'Inps. Grazie.